Il centro-destra è sempre alla prese con questa sintesi che non si riesce a trovare ancora su un nome, Gian Donato Morra, Lucio Del Paggio, si parla anche di una terza via, oggi ci dovrebbe essere comunque una riunione che dovrebbe essere quella risolutiva nei tavoli romani. Sì, noi abbiamo posto un problema che è solamente e prettamente politico della coalizione centro-destra, se c'è unità su un candidato, che può essere Morra, benissimo, perché l'abbiamo fra virgolette anche avallato noi la scelta di Gian Donato Morra, ok, se non c'è condivisione politica, diciamo delle forze politiche fra Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, il problema si viene a creare perché la compattezza del centro-destra è un presupposto che noi abbiamo posto sin dall'inizio in discontinuità con quello che era il discorso, il metodo di amministrare degli ultimi anni a Teramo. Queste sono le condizioni che abbiamo posto, su questa base l'abbiamo ribadito anche l'altro giorno, abbiamo rimandato ai partiti la problematica di sciogliere il nodo, spero che oggi si viena una soluzione per quanto riguarda il candidato, se il candidato sarà Gian Donato Morra con una coalizione compatta noi non avremo nessun tipo di problema a starci. Voi date fondamentalmente ragione anche alla versione della Lega che parla di una candidatura di Gian Donato Morra che dovrebbe essere portata in primis dal partito, dal partito di riferimento che è Fratelli d'Italia, il dato è politico? Sì, il dato è politico, la Lega fa un ragionamento logico dal punto di vista politico, non mette nessun veto sul discorso, almeno inizialmente, su Gian Donato, dicevano soltanto che l'indicazione, come giusto che sia, deve avvenire in seno al partito di Fratelli d'Italia. Se Fratelli d'Italia propone Gian Donato Morra per la Lega penso che non ci siano problemi per capirci e per far sì che nello scacchiere regionale si sa che sul comune capologico, come Teramo, come l'Aguila, come sarà Pescara e Montesilvano, ognuno alle forze proporranno un proprio candidato. Però noi su queste beghe politiche non ci vogliamo entrare, abbiamo detto che i tre partiti nazionali devono risolvere il problema, su un nome, se è un nome già discusso, per noi può entrare bene, se c'è un nome terzo che esce anche, perché può succedere anche che esce un nome terzo dalle tre forze politiche. Ci potrebbe essere quindi questa terza via? Assolutamente sì, ci può anche essere, che le tre forze politiche cacceranno un altro nome e noi valuteremo il nome a questo punto se le liste civiche sono d'accordo su questo nome. Se si candidasse Gatti? I candidati Gatti per noi valuteremo, penso che sia un candidato che fa parte dello stesso discorso di raggruppamento del Coalizione Centro-Dest, si può fare un discorso attorno alla candidatura di Gatti, ma penso che abbia già dichiarato che non era disponibile la candidatura come sindaco di Teramo.